Noi ce l'abbiamo in diretta? Cioè in diretta con noi Bottacchiari? Bottacchiari buonasera. Buonasera, eccomi Davide. Grande Bottacchiari. Eh dici. Eh niente, è stata fatta una riunione con il nostro comitato, stiamo decidendo le manovre, il percorso di iniziativa che dovremo fare nella prossima settimana perché prendiamo spunto dalla famosa frase di Marinella Ricceri che è il sindaco di Riano che ha detto testualmente la protesta comincia a raccogliere i primi frutti, se i frutti vengono raccolti dopo le proteste come hanno fatto loro anche noi cominceremo le nostre proteste per far sì che a Malagrotta non venga raddoppiata, Malagrotta come abbiamo già detto nel passato ha già dato per 30 anni la più grande discarga nuova. Cioè io, Alberto, perdonami, cioè voi sareste contenti, mi sembra di capire, già se non venisse raddoppiato lo stoccaggio dei rifiuti, giusto? Ma in un certo qual modo, basta cominciare a prendere problemi dalla parte positiva e analizzarli tecnicamente in quella migliore. Allora c'è solo un rimedio, però ne parlo in maniera assolutamente amichevole con te, bisogna prendere, perché poi se si parla del quasi 60, poi si arriva all'80 come operazione di riciclo e di utilizzo dei rifiuti, stiamo parlando di un dato molto importante. Io credo che bisogna centrare e sottolineare un punto, smaltire i rifiuti attraverso la combustione, l'incenerimento, cioè bruciarli, crea ormai, è un dato inconfutabile, scientificamente redatto, prodotto e presentato, malattie di tutti i tipi. Punto, io solo questo. Allora io spererei una volta di incontrare un politico che mi dice questa sarà la mia battaglia prioritaria, perché non vedo quale altra battaglia possa essere considerata la più importante rispetto a quella della salvaguardia dell'ambiente, che poi è la casa di tutti noi. Punto. Ma guarda, io, a differenza di Bellini, non sono un politico e non ragiono con l'intento politico o sotto certi aspetti di lobby politiche, se così possiamo dire. Ho intravisto nel discorso di Bellini, che ha fatto poco fa questa tua emissente, un discorso complicato, un discorso troppo politico. Vorrei che la politica entrasse nelle case della gente... Sì, allora lo devi fare te che sei un bravo ragazzo e io e te andavamo in giro con un clacson che non ho più sentito da nessun'altra macchina. Eravamo ragazzini, avevamo vent'anni, gli anni passano purtroppo. Io vedi, io mi auguro che Bellini possa trarre di questa conversazione, possa considerare gli aspetti e gli elementi più importanti per continuare questo suo impegno. Il problema, lo ripeto ancora una volta a chiare note e lo dico anche di quando c'erano i miei ragazzi, Augusto Santori, il fratello di Fabrizio e sapete quale affetto e considerazione mi lega a Fabrizio, ma anche ad Augusto, si muovono grandemente, si impegnano grandemente perché loro, Augusto, è consigliere al quindicesimo, al sedicesimo municipio. Il problema è che questo loro impegno viene sistematicamente mortificato dai vertici, non del partito, ma da quelle che sono già i vertici e le segreterie romane. Paul Connett dovrebbe fare l'assessore all'ambiente, al comune di Roma e ci costerebbe quanto ci costa Marco Visconti, ma con un'esperienza che è sicuramente più importante di quella di Visconti. Punto. Solo questo. Perché non è, non dico una fesseria, Alberto, ci sono ancora inchieste in corso tra familiari di persone che sono morte e che abitavano a Malagrota. E' vero o no? Gramiccioli dice una fesseria quando dice che alcuni risultati delle autopsie non sono state mai consegnate ai familiari dei deceduti? No, è vero. E allora di che parliamo? Ma di che? Io questo non riesco a capire perché si può avere un approccio diverso anche dal punto di vista ideologico rispetto ad un problema, ma questo è un problema che ci riguarda purtroppo, per fortuna, a tutti indistintamente. Sì. Ecco. Riano, il sindaco di Riano, perché poi il problema è che Riano lo spostiamo a Civitavecchia, Civitavecchia insorge e lo spostiamo a Pavona. Certamente, in qualsiasi luogo dove si voglia mettere un inceneritore e poi si muove e si scadena la rabbia dei residenti, di qualsiasi posto. A proposito di questo mio impegno, venni chiamato, ma allora era Eurodeputato, da una persona che dal punto di vista politico non mi fece una grandissima impressione, nel senso che uno discuteria, però umanamente ne trassi il carattere della persona per bene ed è Nicola Zingaretti. Nicola Zingaretti disse a me piacciono queste vostre idee, però vanno previste e considerate in un progetto, in un discorso a ampio raggio, a lungo termine, ma iniziamo da qualche parte. Io dico una fesseria, compravo stamattina la pasta del dentifricio e prima di arrivare alla pasta che mi serve per lavarmi i denti ho dovuto togliere il primo strato di confezione che è di plastica, il secondo che è di cartone e non possiamo più andare avanti così. Anche perché riciclare e riutilizzare i rifiuti significa creare un indotto di benessere assoluto. Questo bisogna fare e mi auguro, e io ovviamente la mia fiducia, la ripongo, nella vostra attività, nell'attività delle associazioni, quando queste, ma io ti conosco e sono convinto che tu non hai nessun legame politico, chi che sia, quando queste sono assolutamente slegate dalla politica. Un abbraccio Bottacchiari. Grazie, grazie a voi tutti. Un saluto a tutti, grazie ad Alberto Bottacchiari. Grazie, grazie ancora.